Gli anni novanta, non so se lo sai, ma sono finiti e sono passate anche già da un pezzo. Dai, su! Abbiamo tantissimi motivi per guardare con dispiacere e nostalgia agli anni novanta. Beh, avevamo vent'anni di meno e sicuramente non me ne vengono in mente altri. Però dobbiamo renderci conto che sono passati appunto 20 anni e in vent'anni è cambiato veramente tutto. Ora, a parte gli scherzi per i DJ, era un periodo d'oro gli anni novanta, erano gli anni d'oro delle discoteche, erano gli anni d'oro dei club, erano gli anni d'oro della tendenza, erano gli anni in cui si vendevano veramente i dischi e magari con un brano di successo riuscivi a comprarti la casa. Però questo non è un canale nostalgico, non staremo qui a tessere le lodi dei bei tempi andati, del festival bar e di quando tutto era più bello. Rendendosi conto che gli anni novanta sono finiti e sono veramente passati, cerchiamo di capire quello che non dovremmo più fare. Perché chi magari ha iniziato appunto negli anni novanta, ha visto e ha vissuto sulla propria pelle quel periodo, tende a riportare delle cose che ha imparato, ma in realtà oggi non sono più valide. Non esiste più la serata con i tempi fissi, all'inizio la musica di sottofondo dal radio, poi il preascolto, la sigla, la partenza, tutto rigorosamente in ordine di BPM andando su piano piano. Non esiste più perché le persone hanno cambiato completamente il modo di ascoltare la musica e anche di seguire la musica all'interno della serata. Non esiste più la serata come il centro del divertimento e quindi la discoteca come realizzazione della serata. Prima si andava a cena e poi si andava a ballare e magari il ristorante era proprio accanto al locale. Oggi ci sono migliaia di appuntamenti intermedi, gli aperitivi, happy hour, disco pub, disco bar, disco club, decine di altri appuntamenti all'interno della serata e dove tutto si disperde. Le persone non ci arrivano neanche alla discoteca. Non esiste più la discoteca come contenitore con i grandi numeri, le sale diverse con i diversi generi musicali. Sì c'è qualche locale ancora di questo tipo ma va avanti di inerzia e fa un decimo dei numeri di quelli che faceva vent'anni fa appunto. Non esiste più il concetto di discoteca come era allora anche se si tenta di proporlo nelle varie salse. Non esistono più gli ospiti, non vai in discoteca per vedere il personaggio televisivo che ti piace tanto perché ora lo trovi in libreria, lo trovi al centro commerciale, lo trovi su YouTube e non hai bisogno di aspettare mezz'ora per farti fare un cinematografo. Sì ok ci sono i personaggi televisivi che lavorano nelle discoteche ma perché già ci lavoravano prima o magari ci sanno lavorare. Non esiste più il DJ come lo conosciamo, il personaggio scritto sul biglietto con il genere musicale che fa e le persone che vanno a sentirlo. Nessun DJ soprattutto nei contesti generalisti ripaga se stesso. Le persone vogliono soltanto trovare una bella situazione e divertirsi. Chiunque sia alla console. Non vai più a sentire il tuo personaggio radiofonico preferito. Non vai più a sentire il DJ che ha fatto il disco e che ti ascolti in macchina tutti i giorni. Che ci piaccia o no, gli anni 90 sono finiti e non torneranno più. Noi viviamo oggi, possiamo decidere di passare il nostro tempo a lamentarci dei tempi andati e di quando era tutto più bello. Soprattutto perché eravamo molto più giovani. Oppure cercare di cavarcela oggi, fare il nostro meglio e vivere al meglio questo periodo in cui siamo, prendendo anche quel buono che c'è. Perché se ci pensi bene almeno non vediamo più delle tamarrate di questo tipo. Continua a seguire Essere DJ oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!